Ben trovati con le news di sport di ATV Mar che è edizione che apriamo parlando di calcio e di serie C perché nel pomeriggio si è svolta un'assemblea straordinaria della Lega Pro all'ordine del giorno la discussione sulla proposta di riforma del campionato di terza serie. Una proposta che è stata bocciata dalla stessa assemblea in che cosa consisteva sostanzialmente nel rimodulare le modalità di promozione e retrocessione dalla serie C ai campionati superiori ed inferiori. In questo caso una proposta arrivata dal presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli che è stata non approvata con 34 voti a favore della non approvazione, 24 voti contrari e una scheda nulla. In questo caso c'era anche il progetto di sviluppo dei settori giovanili e il progetto sulle seconde squadre. Il presidente della Lega Pro Ghirelli al termine ha detto che va preso atto del voto senza se e senza ma. La proposta è stata respinta. Nessun commento da parte mia, solo l'ha presa d'atto come doveroso nel gioco democratico e a far naufragare. La proposta di Ghirelli ci sarebbero state le società, le big del campionato di serie C che considererebbero troppo penalizzante nei loro confronti le modalità di accesso e di promozione alla serie B con l'eventuale nuova riforma. Di qui insomma la bocciatura della proposta da parte di Francesco Ghirelli. Ancora di serie C parliamo perché quella di ieri è stata una serata di auguri ma anche di importanti presenze alla cena di Natale della Fermana. Ospite di eccezione, lo vedete nella foto. Zenec Zeman che ha presentato il suo libro autobiografico La bellezza non ha prezzo. Un evento che è servito dunque per scambiarsi. Gli auguri di buone feste in casa giallo-blu ma poi anche per ascoltare. La voce del tecnico boemo che ha spaziato dal concetto di bellezza legato alla vita e al calcio fino all'attuale momento del calcio in Italia con un accento, anche la mancata presenza azzurra ai mondiali in Qatar. La serata ha avuto una finalità benefica perché parte del ricavato della vendita del libro di Zeman nel corso della serata è stata devoluta in beneficenza alla ASD. Soc Dream Fermana, la società di calcio paralimpico e sperimentale che orbita nel mondo della Fermana. Prima di partecipare alla cena Zeman è stato ospite anche di Casa Fermana e il museo che racconta la storia centenaria del club inaugurato qualche mese fa all'interno della sede della società presso lo stadio Recchioni. Il calcio a 5 ora con Little Service Pesaro che dopo la vittoria in Supercoppa contro l'Olympus Roma si è dovuta inchinare 2-0 in casa solo nel finale alla Kame Dosson. Finale amaro al Palafiera, Little Service Pesaro sconfitta 2-0 dalla Kame Dosson. La squadra di Silvio Rocia non ha robato nulla ma certamente i biancorossi avrebbero meritato un risultato positivo. Due reti negli ultimi minuti hanno però condannato al KO un Pesaro ancora con le scorie inevitabili della Supercoppa vinta 72 ore fa a Genzano. Ovvero stanchezza fisica ma anche e soprattutto l'assenza di canale Fortini out per affaticamento muscolare. A peggiorare il tutto il forfè pure di Juan Alphen all'intervallo quando il punteggio era di parità senza reti. Il primo tempo della sfida col quintetto ospite infatti era rimasto bloccato ed era scivolato via sullo 0-0 seppure erano stati gli ospiti a rendersi più pericolosi. Nella seconda frazione invece Pesaro ha pigiato sull'acceleratore e nei primi 15 minuti ha prodotto occasioni in serie. La colpa è stata quella di non aver concretizzato le almeno 4 occasioni nitide create. Dopodiché si è accesa la spia della riserva e la cama, la prima vera chance del secondo tempo, ha affondato il coltello. Lo ha fatto con Juan Fra a tre minuti dal termine, abile prima a vincere un contrasto sulla tre quarti pesarese e poi a castigare con freddezza Putano. Per l'Ital Service dentro subito il portiere di movimento ma con poche energie la palla gira lentamente. Gli ospiti intercettano e volano verso la porta con via Ira che 14 secondi da Gong sigla definitivo 0-2. Peccato davvero perché così l'Ital Service in classifica resta incollata alla zona play-out e 5 punti di distanza da quella play-off. Ora l'obiettivo è 1, recuperare più benzina e giocatori possibili perché sabato, fra quattro giorni, si torna a sfidare a casa sua all'Olympus Roma che avranno a gran voglia di vendicare il K.O. subito al Palaccio Saroni. Il volley ora con la vittoria della Lube in Champions 3-0 all'Erosole Forum al Tour. Primo posto blindato e praticamente ipotecata anche la qualificazione al prossimo turno della massima competizione europea. Dal secondo set siamo stati bravi a tenere alta l'intensità, siamo stati bravi a partire con intensità. Abbiamo resistito al loro ritorno nel primo set, si sono rivicinati fino a un punto e lì è un attimo. Dopo le partite le abbiamo viste girare tante volte a favore e a sfavore. I ragazzi hanno mantenuto la tranquillità, la lucidità per vincere il primo set. Dopo il secondo siamo entrati forti, abbiamo creato un bel buco dall'inizio. La partita lì ha camminato, poi il secondo set è andato abbastanza bene. Poi c'era bisogno di fare attenzione, poi avevamo la sosta tra il secondo e il terzo set. Credo che siamo ripartiti con attenzione aspettandoci che loro avrebbero reagito. Siamo riusciti a impedirglielo con una buona qualità, facendo pochi errori, ricentrando gli obiettivi con il nostro servizio. Siamo riusciti a fare questa vittoria che è molto importante per il girone di Champions. Non è definitiva, ma è un bel passo per la qualificazione. Abbiamo attraversato un novembre, un inizio di dicembre, dove siamo stati parecchio in giro. Tante trasferte ci hanno messo in difficoltà anche fisica, però abbiamo sfruttato secondo me bene la pausa che abbiamo avuto di dieci giorni tra una partita e l'altra per prepararci per questa partita. Credo che si sia visto che la squadra era in forma, era vogliosa di fare bene. Stavamo pensando all'importanza di questa partita in chiave della classifica di Champions League. Molto bene, è arrivata una vittoria da tre punti, è abbastanza concreta, con dei punti comunque da migliorare, però abbiamo messo in difficoltà comunque l'altra pretendente per il passaggio del turno del girone, quindi va bene così. È molto interessante la capacità che la squadra ha di maturare anche da questo punto di vista, perché noi abbiamo alternato già da inizio anno buone prestazioni, difficilmente eravamo riusciti a dare continuità, adesso lo abbiamo fatto in sequenza un paio di partite, abbiamo cominciato a parlare della volontà di crescere da questo punto di vista e per adesso ci stiamo riuscendo e sarà molto importante non solo ai fini della classifica, ma in questo senso la partita con Siena del 21, ma anche la partita con Taranto che viene prima di domenica, perché sono due partite da questo punto di vista decisive, credo sarebbe una bella prova di maturità. Ultima serata conviviale al Panathlon Club di Macerata, ospite di eccezione, sempre per restare in tema volley, il CT della Nazionale Campione d'Europa e del Mondo in carica, Fefe De Giorgi. Sentiamo. Alla fine siamo riusciti a creare, almeno dalla parte mia, ma io lo sento anche da parte di molte persone che incontro, insomma, al di là dell'aspetto sportivo, un affetto anche sulla persona che mi fa molto piacere. Le Marche nel cuore così Fefe De Giorgi, allenatore campione d'Europa e del mondo con la Nazionale di Volley Maschile alla serata del Panathlon Club Macerata. Il coach azzurro ricorda i suoi trascorsi di vita e professionali, prima a Falconara, poi a Macerata ed infine a Civitanova Marche, in una carriera che l'ha portato a vincere praticamente tutto, sia da giocatore che da allenatore, tranne l'Oro Olimpico. Quindi l'obiettivo è Parigi 2024. Ah, questo sarà un tema, secondo me, che già stanno partendo. La verità è che noi abbiamo un europeo l'anno prossimo che giochiamo in Italia. Tra l'altro verremo a giocare ad Ancona due partite, quindi mi raccomando, vi aspetto, perché per la nostra squadra anche questo passaggio dell'europeo sarà un momento importante. Poi dopo penseremo a quello che viene dopo, perché la filosofia anche un po' della nostra squadra è questa di affrontare una competizione alla volta, ma soprattutto per pensare di crescere e di migliorare ancora, perché per rimanere in alto non ci sono alternative. Essendo poi un gruppo giovane, insomma, c'ha tempo fisico e qualità per farlo. La serata nello splendido scenario del Teatro della Filarmonica è stata l'occasione dell'ingresso di un nuovo socio, Fabio Passarini, ex arbitro di calcio a 5, e soprattutto per omaggiare Giulia Perugini, 87 anni, pluricampionessa di salto in alto, una vita dedicata allo sport. È vero, è vero che è una vita dedicata allo sport, l'idea, il pensiero mio più importante è quello del saltare. Adesso è un periodo che sono un pochino scesa, perché è salito invece l'età, è salita l'età, come temperamento, se no io sono una iperdinamica, io non sono stata mai ferma, ho cercato sempre di fare, io dentro casa ho le scale, e io di corsa sempre le faccio anche adesso, su e giù, su e giù, su e giù, e poi mi piace, mi piace, mi piace saltare, mi piace saltare. Noi siamo in chiusura, invece vi ricordiamo come di consueto che le notizie le trovate pubblicate sul nostro sito tvmarche.it, ma anche sulla nostra pagina Facebook di ETV. Grazie per l'attenzione e ovviamente l'augurio di una buona serata in compagnia dei nostri programmi. Arrivederci. Grazie a tutti.